tesla perde quasi il meno 50 per cento dai massimi di periodo ma è una trappola o un'opportunità buongiorno a tutti io sono vincenzo penna di investire.piz e questa è caffè mercati quindi buongiorno a tutti buon caffè e come sempre cominciamo proprio dal calendario economico per poi approfondire effettivamente su tesla quindi mi sposto subito sul calendario e per andare a vedere quali sono gli appuntamenti della giornata odierna non ci sono particolari appuntamenti come potete vedere qui dal calendario economico appunto è attesa soltanto l'inflazione in italia quindi vediamo effettivamente come sta andando l'inflazione per quanto riguarda ieri giovedì sono uscite le le consuete richieste di disoccupazione in leggera diminuzione ma più o meno si attestano sempre su circa 200 mila unità ciò che invece ha sorpreso i mercati infatti l'avete visto sugli indici americani con il gran tonfo che è fatto fatto nasdaq ed s&p è stato l'ipp ovvero l'indice dei prezzi alla produzione quindi l'inflazione però relativa appunto ai prezzi alla produzione e questo ovviamente mette ancora di più curiosità su quella che sarà poi la riunione della fed del 20 marzo quindi mercoledì prossimo tra l'altro riunioni io ve lo ricordo come sempre che noi siamo sempre lì ad ogni riunione della fed col mitico giancarlo crisco per operare il live e vi ricordo che se avete un conto tribe capitalizzato con almeno 2500 euro potete partecipare gratuitamente alla scalping live quindi non c'è bisogno di acquistare di acquistare la 79 euro ma potete accedervi gratis e visto che siamo molto vicini al 20 marzo il nostro diciamo il nostro consiglio è quello di affrettare i tempi perché un paio di giorni si perdono tra la creazione del conto e il primo bonifico quindi se non avete ancora un conto tribe mi raccomando anche perché poi parlando di tesla vi faccio vedere che c'è una una grandissima chicca per quanto riguarda l'azionario ma mi sposto proprio a parlare di tesla facendovi vedere prima il grafico e poi andando a fare un po di analisi fondamentale perché perché tesla ve lo dicevo in apertura ha perso il 45 46 per cento dai massimi del di luglio quindi è una perdita sostanziale una perdita che non si vede effettivamente tutti i giorni tutte le settimane per quanto riguarda uno dei titoli delle magnifiche sette quindi è anche un titolo abbastanza capitalizzato che diciamo questi questi tracciamenti appunto non sono affatto all'ordine del giorno quindi potrebbe essere un'importante occasione lato tecnico andiamo invece a vederlo lato fondamentale infatti mi sposto proprio sul nostro forecaster questo ve lo faccio vedere dopo però andando appunto nella scheda fondamentali per andare a vedere un po tesla come se la sta cavando è palese che la crescita annuale è pazzesca senza precedenti siamo quasi al 100 miliardi di fatturato annuo però la cosa interessante è il lato dei quarti quindi i trimestri perché che l'ultimo trimestre è stato un trimestre altamente importante altamente remunerativo per quanto riguarda tesla vedete che addirittura il net income cioè il l'utile netto è salito addirittura dai circa 2 miliardi agli 8 miliardi di dollari quindi stiamo parlando di una crescita di quattro volte superiore agli utili che effettivamente aiuta e non poco l'azienda dove sta il problema perché abbiamo avuto diciamo questi tra l'altro leverage fair value per il forecaster basato appunto sulla media dei parametri appunto che vedete qui riporterebbe l'azione a 1160 dollari come prezzo consono diciamo giusto e siamo soltanto a 162 quindi potrebbe essere effettivamente una grandissima opportunità al lato fondamentali però perché il mercato sta penalizzando così tanto tesla vi faccio vedere questa cosa in due grafici il primo di tutti è la concorrenza spietata cinese e infatti questo grafico penso che sia proprio la la il riassunto perfetto di quello che stiamo dicendo perché questo è il grafico delle colonnine elettriche installate negli Stati Uniti d'America in rosso e in Cina in blu vedete che in Cina abbiamo due milioni e mezzo di colonnine installate contro le soltanto 130 mila unità negli Stati Uniti pensate che se si fa un paragone con i con i cittadini ogni colonnina potrebbe carica o meglio scusate non per i cittadini per le auto effettivamente vendute ogni colonnina negli Stati Uniti può caricare 18 macchine ogni colonnina invece nel in Cina può caricare 7 auto e questo ovviamente radice lunga sul quelli che sono diciamo in quelli che sono praticamente i soldi effettivi che la Cina sta mettendo in questo in questo settore il settore delle V tra l'altro la concorrenza in Cina è spietata non soltanto nei confronti di Tesla infatti abbiamo Niva abbiamo abbiamo Bid abbiamo tanti tanti competitor che a parità se non addirittura a qualità superiore hanno prezzi effettivamente molto molto concorrenziali non per questo appunto in in Europa arrivano con in Europa e anche in America arrivano con un sovrapprezzo proprio per combattere questa questa concorrenza spietata un altro grafico che volevo far vedere è questo il costo effettivo di una Tesla usata da ottobre 2022 fino ad arrivare ai giorni nostri vedete che si è più che dimezzato il prezzo questo perché perché anche il comparto nuovo quindi anche le auto nuove hanno avuto un taglio dei prezzi relativo appunto però a una produzione che è aumentata nel corso degli ultimi due anni quindi questo effettivamente sta scontando il mercato il mercato sta scontando semplicemente un cambiamento di rotta da Tesla per quanto riguarda ovviamente il settore del automotive elettrico a tutto il comparto cinese ovviamente ne potrebbero potrebbero essere avvantaggiate anche le piccole aziende come ad esempio NIO però parlando di Tesla riteniamo che questa sia comunque un'opportunità senza precedenti perché non è da tutti da tutti i giorni effettuare appunto cioè avere un meno 50% su una delle top sette aziende più capitalizzate al mondo infatti abbiamo visto fondamentali dal punto di vista fondamentale non ci sono dubbi che Tesla sia un'azienda molto molto sana e in continua crescita e addirittura ve l'ho anticipato prima se andiamo a vedere il grafico del overbought ever sold per quanto riguarda sia il Wyckoff che lo speed base vediamo che attualmente con il luogo minimo abbiamo fatto segnare una ottima divergenza rialzista perché vedete che minimi crescenti sul Wyckoff e anche sullo speed base eccolo qui minimi crescenti hanno corrisposto invece minimi decrescenti per quanto riguarda il prezzo quindi ci potrebbe essere una forza di vendita minore rispetto a quello che invece è il prezzo a cui stiamo assistendo quindi potrebbe essere veramente un'ottima opportunità qual è il problema il problema è che questo minimo probabilmente non sarà l'ultimo ma come sempre sappiamo che diciamo il mercato ragiona quasi sempre a forza di tre cioè vengono fatti quanto minimo almeno tre minimi prima poi di ripartire con l'accumulazione quindi questo potrebbe essere il primo minimo e il secondo potrebbe essere effettuato proprio nell'area nelle aree che vi ho segnalato quindi tra 155 dollari per azione fino ai 121 dollari per azione quindi come possiamo aggiornare la nostra operatività sicuramente andando a fare un primo ingresso da livelli attuali ovviamente tutta l'analisi è per il lungo periodo quindi non stiamo valutando un trade di breve o medio periodo ma lo stiamo valutando come inserirla diciamo per inserirla nel nostro portafoglio di lungo per chi volesse provare un trade molto molto rapido i livelli tecnici sono leggermente diversi perché bisognerebbe impostare uno stop loss al di sotto di questo minimo ma per il ragionamento che abbiamo fatto prima ci potrebbe essere comunque un altro minimo quindi per le operazioni di breve io consiglierei di aspettare la creazione di un successivo minimo o una rottura dei 200 al rialzo ritornando alla nostra operazione quindi primo ingresso sui livelli attuali in zona 160 all'incirca e secondo ingresso proprio in area circa 100 130 dollari quindi poco prima dell'ultimo dell'ultimo supporto fatto segnale in area 120 dollari questi sono i due ingressi con target che ovviamente devono essere di lungo periodo quindi il primo target lo andiamo a prendere in area 200 dollari e il secondo target all'incirca sui 250 260 quindi la soglia proprio degli ultimi massimi di periodo vado a cambiare un po i colori questi quindi sono i livelli tesla in rosso i livelli appunto di ingresso in area circa 160 e il secondo in area 130 e i target ovviamente 203 e 254 dollari per azione vi faccio vedere una novità per quanto riguarda drive perché lo vedete qui a sinistra abbiamo due versioni di tesla una in leva 1 a 5 come è di consueto e l'altro invece a leva 1 a 1 quindi per chi volesse effettivamente utilizzare questi strumenti per andare a fare diciamo investimenti proprio per come l'abbiamo visto quindi per il più lungo periodo la controparte senza leva ha commissioni esattamente 0 quindi molto molto interessante per fortuna abbiamo questi nuovi strumenti in questa nuova piattaforma con drive se volete aprire un conto e vi serve ovviamente aiuto andate sul sito drive.com slash it eccolo qua e ci scrivete ovviamente in chat o in basso a destra oppure se avete i nostri numeri privati ci contattate direttamente su whatsapp ragazzi detto questo è stato come sempre un piacere io vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti ciao grazie a tutti